La fretta è cattiva consigliera La fretta è cattiva consigliera E noi del Kebab Podcast abbiamo preso in ostaggio un nuovo ospite Pietro, sei pronto? La presentiamo? Ma è qua, non la vedi che sta qui pronta? Comunque è veramente brutto quello che stai facendo Dici? No, è terrificante Terribile? Però facciamo la prima domanda La prima domanda? La prima domanda Emanuela, tu di dove sei originaria? Ma no, c'era pure lei come il direttore di Tredo Chaos? Ma lo sai che pure io? Assurdo Ma quindi No, vabbè Anche lei? C'è, ma No, io non me l'aspettavo Comunque è veramente un applauso Emanuela Caparello Un applauso, è veramente bravissimo Un ospite meraviglioso Ah, e questo Vabbè, basta Basta Azione Azione Bentornati al Kebab Podcast Perché bentornati? Cioè, benvenuti Benvenuti, bentornati Beh, comunque si hanno visto la prima puntata E la seconda Bentornati E se invece tra 100 anni Si conserva solo questa puntata Va nello spazio tipo Una roba del genere C'è solo questa e c'è scritto bentornati Eh, la diciamo bentornati, benvenuti E boh, non lo so Vabbè, ciao a tutti Ciao a tutti Bella per voi Io sono Pietro Monfreda Io sono Vincenzo Minichella Ma l'abbiamo mai fatta questa cosa che ci presentiamo? Sì, l'abbiamo fatta Forse, sì, l'abbiamo fatta Funziona? No, funziona secondo me La cosa va bene Sì, sì No, stiamo disvelando subito l'ospite, madonna Eh, beh, perché certo non si vedeva prima No, non si vedeva, no Già Giorgio Montelli ci ha preso in giro per questa postazione terribile Madonna A proposito, facciamo un caldo generoso intro a Emanuela Cappello Grazie, grazie mille Comunque sì, sta postazione è un po' di ansia, è un pochino Ebbè Devo dire Però, però sono felice di essere qui Ma mi fate le domande Cioè mi fate le domande voi Sì, domande classiche Tipo Però sarebbe interessante No, se tu vuoi fare le domande da sopra Ve le posso fare anche da sola Come stai? Ma guarda, non lo so Dimmi tu Come mi vedi? E poi continua questa cosa Tipo per una mezz'ora A vero, come stai quindi? Eh, non lo so Dimmi tu Come mi vedi? Io Mi vedi bene Benissimo È un fiore È un fiore È un fiore, però È un fiore di montagna Un fiore di montagna Capestato da una capra di montagna Perché è proprio di montagna? Perché è fresco, è alto, ho capito? Ah, ok Ti ricorda il tuo ultimo amante? Meissner Sì, sì Lui era proprio fresco e alto Cos'era una gomma da masticare di palmentolo Esatto, esatto Peccato che Va bene Già partiamo subito con le uscenità Esatto Dopo ci abbiamo tempo per fare tutti i dissing Sì, sì Con uno spazio dedicato Per parlare male di chiunque ti pare Tipo Non so se tu ti ricordi la posta di Sonia Oddio, certo Eh, esatto Noi alla fine facciamo tipo Salutiamo L'entrino La letterina Leggiamo letterina Sì, sì Bellissimo Bello Birillo Madonna Non l'abbiamo fatto con Montanini Perché sennò ci menava Non ci vedo Però con te lo posso fare Tanto tu No, non ci puoi menare Non sei Montanini Noi non sono Montanini proprio Ricordiamolo che Non è Giorgio Montanini Se qualcuno si fosse sbagliato fino adesso Sì, sì Io non sono Giorgio Montanini Cioè, chiaro Mi raccomando E non sei neanche Morgan No, neanche Morgan Potrei essere però Francesco Motta Perché comunque ci possiamo È vero, è vero C'è una somiglianza Per caso sei sposata con una bionda No, eh, no Quello mi manca La bionda La crescentini La crescentini Salutiamo Salutiamo Entrambi Invidiamoli Tanto in 5 dell'anno mai Però sono bellissimi Una bellissima coppia Io sarei wire loro Cioè, stare lì a guardarli Sono molto belli Se uno dei due smettessi di fare musica Sarebbe una coppia fantastica Comunque Baci Carolina Basta Carolina Basta Carolina Smetti Dai Carolina, basta Vai dietro Comincia tu Con la prima question Di questo fantastico podcast Sono pronta Cari Emanuele Noi ti vogliamo chiedere appunto Tu sei anche un'attrice Cioè, sei principalmente Penso un'attrice Sì Che sei data Alla comicità Sei data Sembra tipo Ostaggio della comicità Ti svedi, no? Perché tu prima eri un artista Poi sei diventato un comico Capito, certo E questo è quello che succede Sì E niente Ti volevo chiedere appunto Come è cominciata questa tua passione Per la recitazione E come è stata la prima volta Che sei salita su un palco Allora La prima volta che sono salita su un palco È stato praticamente Quando avevo 8 anni Però in chiesa E facevo Uno dei pastorelli Tipo Avete presente Insomma Le rappresentazioni Quelle a fine anno Anzi a Natale Proprio Quando nasce Gesù E tu vai Anche Anche questo E quindi si è stato molto intenso E da lì ho capito che No, in realtà poi da là Ho continuato Poi ho sempre fatto cose Comunque sempre spesso in chiesa Devo dire Tipo recite E cose così E poi ho fatto l'accademia E lì ho sbagliato tutto Perché dovevo non fare l'accademia Perché poi là ho smesso Di fare l'attrice Dopo qualche anno Perché A parte che non mi voleva nessuno Ci dicevano tutti No, ma tu non funzioni Comunque anche il cinema Non ti chiama nessuno I casting Non ti vogliono manco vedere Quindi ho detto Vabbè a sto punto Basta E ho lasciato Diciamo L'idea di fare l'attrice Due anni e mezzo fa Durante il covid Ho detto Basta Sai che c'è Che me frega Quindi Insomma Sono arrivata un po' A questo esaurimento mio nervoso E poi da là Ho iniziato a scrivere Dei pezzi I miei tragicomici Sulla metro Sulla metro C Quindi ho iniziato a scrivere Sempre sulla metro C Perché andavo a lavorare Tornavo a casa E ero frustrata Perché facevo un lavoro Di merda Ma perché altro che schifo La metro C Che schifo la metro C Un posto orribile Un posto veramente brutto Dove tu comunque stai lì Non prende Non puoi fare niente Niente Cioè ti vengono gli attacchi di panico Perché la metro passa Fra tipo Diciotto minuti Stai sotto a sto bunker E non sai che fare Con le dalle capocciate E poi tutte quelle fastidiose persone Che ti guardano negli occhi Esatto Esatto Che ti giudicano Poi tra l'altro Ti giudicano Perché non possono guardare il telefono Ti guardano in faccia Con le strippe Sì sì Poi io stavo Siamo a Mirti Quindi c'avevo anche Tutti i pischelli Quelli Le mini gangbang Come si dice Sai che potrebbe far molto rire Il mini club in Calabria Con le mini gangbang Con gli animatori Che tirano fuori questi piselli No facciamo la mini gangbang Bellissimo Una mini gangbang Potrebbe essere una gangbang Di solo due persone Esatto E non è una gangbang Però te lo faccio da più direzioni Un'ottima idea Per i villaggi Capita Per i villaggi turistici Con le mini gangbang Bellissimo Siamo disponibili per Alpitour Madonna Sì sì Guarda mi smetto pure io Comunque pagano bene Secondo me Madonna Sicuramente molto meglio Che lavorare a Roma In qualsiasi posto Sì certo appunto No salutiamo Roma Che comunque ci dà Da mangiare Grazie Roma Grazie Roma Grazie Roma E niente E niente poi Vabbè dicevo che ho smesso Perché mi erano rotta le scatole Di fare i provini Che comunque non facevo Poi non mi piaceva Ho capito che non mi piaceva più recitare E poi mi annoiavo Poi anche in accadena mi annoiavo Perché non mi piaceva quello che facevo Quindi ho detto Vabbè sai che c'è Io scrivo le mie cose Arrivederci a Dio Per sempre Invece poi ho ricominciato Perché ho iniziato a fare dei video Così tutto a caso Ho detto mo li metto su Instagram E questi video hanno iniziato a funzionare E poi ho ripreso a esibirmi Nei posti Negli open mic Ma anche Non so Tipo nei locali Una volta mi sono esibita a cento celle Però Cioè io pensavo che dovevo leggere le poesie Invece era un local Era tipo un pub Con tutta gente che mangiava E nessuno sapeva che mi sarei esibita E io mi sono esibita con un foglio Un microfono wireless In mezzo alla gente Che cioè veramente regà Mi voleva uccidere Cioè pensavano che io Stavo lì a caso È stata una delle esperienze più Terribili della mia vita E è finita malissimo T'hanno pagato? Mi hanno pagato Non so perché Ma in un certo punto Non mi pagate Ho detto vabbè non mi pagate Non mi pagate Io faccio Io leggo le poesie No Gli hai menato a qualcuno Io volevo menare Io volevo menare a tutti E loro pensavano che facessi stand up Io dicevo No io scrivo i pezzi miei poetici Faccio una cosa Faccio prima scrivo delle cose mie poetiche Con sti folli Andavo in giro E quello diceva Vai a farli divertire E ho detto Raga ma io non fa Sono delle poesie Sulla metro C Sono delle poesie Sulla metropolitana Su Roma Su cose così Cioè queste fanno In teoria dovrebbero Fare pure un po' piangere Praticamente loro volevano Martufello Ma avevano preso Aldamerini Capito Ecco Bello sto mix Aldamerini Martufello In un'altra vita Erano amanti O forse è la stessa persona Forse sono la stessa persona Qualcuno ha mai visto Martufello e Aldamerini Nella stessa stanza No Solo Margheritac Tutto può essere Margheritac che sta nella stessa stanza Con Martufello Sì con Martufello e Giovanni Falcone Lì hanno inventato la B2 Comunque Tessera 1 8 9 8 Continuiamo appunto con questa intervista Con il filologico delle domande Allora abbiamo avuto Come seconda ospite Sì Mico Ronchi Che sia una comica Che prevalentemente una modella Ok Ha fatto anche le playboy Eccetera 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 Tantissima roba Molto interessante Sì Secondo te la comicità Si può sposare Può coniugarsi con l'essere bella Con la bellezza Con Ma sì certo Assolutamente sì Perché No no Basta con questa cosa Che uno deve essere brutto per forza O comunque goffo Per forza Quindi tutto quello che sto facendo Non ha senso Grazie Non ha senso Vincere Imbruttirmi tutto sto tempo Tutta la vita No vincere Lascia stare Non smettere di bere Ma non è vero Non ci si sta impegnando È tutta natura Genetica Grazie papà È tutta natura Quindi tu non hai mai Non hai mai sentito Sai Perché a volte Specialmente su Personaggi pubblici Di sesso femminile In questo Meraviglioso paese È stupendo È fantastico A volte Si percepisce Proprio una difficoltà Deviare l'attenzione Sulla tua arte Anziché sulla tua persona Ah questo Sì Vabbè Vanno solo un po' Educate Un po' Un po' Tanto educate Le persone Cioè io per esempio Ho avuto questa cosa Che mi ha fatto molto ridere Un periodo Adesso un po' di meno Che le persone Mi insultavano Tipo su Instagram Mi dicevano Ah sì Tu fai tutte queste cose Perché in realtà Poi mostri le gambe Ecco perché Tu mostri le gambe Ma non fai ridere Mostri solo le gambe È per questo Che c'hai i follower Ho detto sì Posso pure mostrare le gambe Però insomma Se poi mi stai a sentire C'è un motivo Nel senso E questa cosa Cioè la gente Si incazza tantissimo E dice Non può essere che tu Fai vedere Un pezzo del tuo corpo E poi parli anche Probabilmente Dici anche qualcosa Di divertente Cioè questa combo Dà fastidio Però vedo che Comunque la gente Piano piano si abitua Lentamente Ci mettiamo i tempi Che ci mettiamo Però insomma Poi quelli che restano Ancora indietro Nella pre-storia Beh quelli Li saluteremo Li diremo ciao Arrivederci Non so se si è capita Questa cosa Io sono con te Perché anche io Subito questa cosa qua E che io Mi mostro spesso le gambe Anche io E tutti mi dicono Ti prego coprile Ti prego coprile Che schifo Ma in realtà non è vero Perché a me mi hanno chiesto Foto dei piedi Quindi Eh vedi E lo date a pagamento Lo date E' fatto benissimo Non c'è niente di male A te te è mai successo Sì mi è successo Spesso pure Però mi Mi sento un po' così Cioè non mi va tanto Di mandare la foto Del piede A non so Tizio Abruzzese Di 70 anni Top Per soldi Meraviglioso Ti mando i soldi Non so Ancora non l'ho fatto Però ho avuto diverse richieste Devo dire Tipo ti faccio il paypal Oppure Uno mi ha detto Ti prego Potresti gentilmente Insultarmi Usando vari dialetti E mostrandomi i tuoi piedi E mandandomi un video Mentre mi mostri i piedi E mi insulti E sputi per terra No questo Ho detto Troppe cose Gli hai detto Non sono Pilar Fogliari Basta Ti prego Ti prego Non sono Pilar Basta Basta Questo è molto carino Ciao Pilar Ti vogliamo bene Ma tantissimo Molto Sei una grande Vieni a Kebab Che loro sono forti Che cosa Sono forti Vabbè facciamo un'altra domanda Vabbè ce l'abbiamo tantissima ancora Vi sono venuti un paio di curiosità Perché ovviamente Abbiamo fatto delle ricerche su di te Per porti delle domande Che sono attinenti Anche a tua personalità Ho visto che hai un profilo di talent Che praticamente È il destino di chiunque Faccia recitazioni Daci l'ho anch'io Anzitutto Ho visto che abbiamo una cosa in comune Entrambi abbiamo scritto Che siamo attori acrobati Ok Tu sei un'acrobata Io mi ritengo tale Sì sì Io sono una persona comunque Molto snodata Ma Cioè sono una persona Molto versatile Quindi sì Ce le metto Tutte Pensate che una volta Ho pure scritto Che avevo fatto delle scuole in più Per farmi prendere ai provini Tipo ho inventato delle cose Ho detto tipo Faccio equitazione Perché equitazione Va tantissimo Sì 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 Ma perché Io non capisco ancora Equitazione Scherma Arrampicata Arrampicata Notare Se sai notare Notare sempre È colpa degli anni 80 Che facevano questi film Dove c'era gente Faccia sport Sì sì Con The Max Ma adesso non c'è più No anni 80 Americani Sì 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 Infatti non hanno nessun senso Non è arrivata Però Elisa di Rivombrosa Se fanno Elisa di Rivombrosa Devi sapere tirare di schermo Quello c'è ragione No bene donne no Se non credo che lì Tira solo di spada Però qualche spadata Pure nella femmina Perché non Elisa di Rivombrosa Mi ricordo che era Molto patercale Cioè non me lo ricordo Propriamente tipo Donne che fanno come gli pare Però Elisa ogni tanto La prendeva la spada O no Io mi ricordo Io mi ricordo La spada sembra tipo Una canzone D'anni 70 De venditti Elisa è la spada Elisa è la spada Vabbè Facciamo riferimento alle spade Assolutamente No Assolutamente no Salutiamo l'eroina Dovunque tu sia L'altra curiosità Sul tuo profilo di e-talent È che Secondo Secondo tale Raffinatissimo Sito Risulta che tu sei Alta meno di un centimetro No no Un centimetro solo Un centimetro solo Infatti ti abbiamo visto così alta Che è successo? Guarda ragazzi Ho lasciato così Perché poi sono cresciuta molto Quindi Ho lasciato così Ho detto guarda così Mi piace molto Questa altezza Perché poi è Non so come spiegarvi Cioè poi rappresenta un po' La mia anima Che è piccola piccola Però poi si ingrandisce Si esplode No mi fa molto ridere questa cosa Io l'ho trovata Non neanche Non l'ho cambiata Perché mi faceva talmente ridere Cioè io ho pensato Oh metti che uno Mi vuole chiamare Va cerca Emanuela Cappello Uno pure serio Un regista Gli viene in mente Per sbaglio Va cerca E c'è scritto Altezza un centimetro Ma va bene così Cioè va benissimo È giusto così Quindi io sono molto fiera E lascerò Altezza un centimetro Ma questa è una tecnica Fabino Anche lui la prima volta Misse alto un centimetro Hai visto Da lì Ma lo sapete che una volta Fabino ha visto una storia Cioè io Fabino ha visto una storia mia Così Mentre così parlavo Pensavo Questo perché è arrivato fino a qua A vedere questa storia mia Così Sai certe volte Gli uomini Qui si studia Le persone Gli uomini Aprono Instagram E iniziano così A scorrere casualmente E poi diciamo Succedono delle cose Capiti anche su dei profili Che magari non avevi idea Non avevi E tu dici Ah vedi Però questa E poi succede un'altra cosina E poi vabbè Poi apri Talenta E scrivi un centimetro L'altezza Esatto Un mazzo per minuscola Potrei portare un toschino Finisci sempre là Alla fine Su Talenta Grazie Talenta Che salutiamo anche No ma È tipo Escort Advisor Praticamente Talenta Praticamente sì Sì È vero Ci stanno tutti Andiamo su Appunto sui tuoi video Che fai su Instagram Ok Nel tuo video tu sei un personaggio Diciamo Sei una ragazza sfigata Sì Che vuole a tutti i costi Una relazione Anche in modo violento E tu Mi ricordi molto Vincenzo Sì no Sì sì Io faccio sempre così Io riesco a Vincenzo Ma soprattutto con gli animali Non con le persone Perché obbligo l'animale A volermi bene È quello che non funziona mai Come tutti E Vedi mi sono perso No Sostanzialmente È una roba tua autobiografica O qualcosa che hai visto In tuoi amiche Nelle persone Abbiamo un po' Una raccolta di tutto Sia autobiografica E anche la raccolta Di racconti Che mi fanno Quello che vedo Tutto Tutto quell'accrocchio Di situazioni Che si creano Tra Insomma Nelle relazioni Quindi Cioè è sempre Tutto portato Un po' All'estremo E poi Cerco di dire Le cose che Magari io vorrei dire Tipo le esagerazioni Le vorrei dire Ma non lo posso fare Nella realtà E quindi do voce A queste cose A questa richiesta Disperata Disperata Ma come parlo Disperata D'attenzione D'amore Satisperazione Comunque continua Costante Che si vive E l'insoddisfazione Perenne Quindi sì Alla fine Do voce a queste cose E mi diverto A fare questa cosa qua E a prenderle pure In giro Certe tipologie Comunque Come quello che Cioè tipo Quello che ti dice Che segno sei Allora ho capito tutto Di te Ho la carta astrale Ma che vuoi Di che segno sei Emanuele Sono sagittario Cosa vuol dire Non lo so Non ho idea Bellissimo Scagli frecce Sagittario Una persona molto Dinamica Comunque viaggiatrice Come tutte le altre Che ama viaggiare Amava divertirsi Molto creativa E le arrampicate E le arrampicate Quello è il trekking Sì sì Anche il surf E anche un acrobata Sì sì E molto basse Persone molto piccole Molto piccole Sì sì Molto basse Molte piccole Comunque Sempre per Continuare a parlare Dei tuoi video E di quello che Stai facendo Tu ovviamente Adesso Stai iniziando Ad avere un certo seguito Insomma Possiamo dire Quanti sono 78 mila Ha abbassato la voce Di qualche decibel Da un po' di tempo Si è messa a paura Che è successo? Adesso che è successo? Che domanda mi farà? Adesso Stanno arrivando Adesso arrivano Piano 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 Quelle più brutte Non ti preoccupare Oh signore Le più belle Sì Abbiamo spremuto il meglio L'ultima Ultima carina Avendo Adesso Tanti follower Sei molto attiva Su Instagram Com'è Com'è papà Instagram? Ti tratta bene? Hai un buon rapporto? Ma devo dire Che l'ho un po' Cioè L'ho dato un po' Di rotture di scatole Però Insomma Ogni tanto Mi censura Delle cose stupidissime Non capisco perché Però dai Alla fine Non posso parlarne male Al momento Perché È l'unica cosa Che mi aiuta Cioè Nell'ultimo periodo Grazie a Instagram Io sto facendo pure Insomma Serate cose Le persone mi conoscono E tutto quanto Però certe volte L'odio perché Mi censura Delle cazzate Enormi E non censura Poi Delle robacce Incredibili Che vedo Quindi Insomma Tipo quello che mette Pietro Su Instagram Che è robaccia No pure a me Mi hanno censurato Un sacco di roba Tantissime Ma una volta Ho detto Guarda Instagram Mi è arrivata la foto Di Si può dire pene? Sì Sì Di un pene Comunque particolarmente Grande Cioè Mi sono spaventata Ma che è sta cosa? E Instagram Mi ha detto No non abbiamo notato Niente di sano Perché se era piccolino Invece È brutto Terribile Se era grosso Invece Ma ogni volta Che io segnalo Queste cose Instagram dice Ma no Non mi pare che Cioè Mi arrivano delle cose Violentissime Tipo insulti Peni Foto di Cioè Video di peni Gente Gente che pagherebbe Per avere la tua vita Lo sai? Esatto E niente Raga Instagram dice sempre No Non stai calma Non ti preoccupare Questo tizio è uno a posto Tranquillo È la prima volta che lo fai Incensurato Sì È un bravo vaglione Alla fine È solo un appendice cutanea Con una forma particolare Madonna Ti sta pure a lamentare Mamma mia Basta Con sta cosa Dei cazzi E poi Piano piano Ti fa Che poi alla fine Mi piace pure Lo sappiamo E dai Ti piace Su Non fa la cosa Levati sta miniconna Mettiti una più lunga Per favore Sappiamo che Instagram in realtà È Bandecchi Salutiamo No salutiamo Stefano Bandecchi Anzi Mi metto Prono per te Stefano Se ti riesco No Da poco appunto Hai esordito A Trastevere All'Alcazar All'Alcazar Quanti giorni fa Due giorni fa Due giorni fa Sì Come è andata È andata proprio bene Cioè io non sono una di quelle Che dice Ammazza è andata bene No io so sempre No è andata malissimo È andata molto bene Perché il pubblico rideva Quando doveva ridere E stava zitto Quando doveva stare zitto Assurdo Quindi ho pensato Questi sono stati Cioè questi Io ho pensato Mi sono fatta la paranoia Ho detto no Beh ma queste persone Sono venute Perché hanno pena di me E hanno pensato Poverina Questa qua Se non ridiamo Questa Gli piglia male Se ne va Scappa Cioè si droga Si ammazza Così Quindi ridiamo Quando dobbiamo ridere E stiamo zitti Quando dobbiamo stare zitti Quindi è andata molto bene Secondo me Però c'è qualcosa Che non Cioè non mi torna Capito Non è possibile Ma è normale Per tutti gli artisti All'inizio io pensavo Quando facevo veramente Cioè quando ferite Proprio tutti Però immagina una serata In cui ci sono 30 persone Anche se sono 30 Tutte quante ridono il coro Tu pensi che sia Il pullman della chiesa Che ha portato I ragazzini Quelli che non stanno Tanto bene Capito Che non capiscono E praticamente Ridono e basta Capito Io ancora oggi Dico ma questi sono stupidi E poi dici No non è possibile Ma neanche io ridono Le cose mie Capito Ma se è veramente degli idioti State a ridere la roba Indecente Io ero sconvolta Ero scioccato Ho detto no Ma il pubblico No comunque è andata bene È stato bello È stato il mio primo show Cioè la mia prima volta La mia prima volta La mia prima volta Oh mio dio Anche un bel ricordo Che ti porterai Sì sì Ma hai fatto in un bel locale Poi tra l'altro Devo dire Molto bello l'Alcazar Molto club No no Figo figo È stato bello Salutiamo l'Alcazar Non si sa mai Ciao Alcazar Si sa mai Ciao Alcazar Ciao Zianna Ciao Zianna Con spaghetti Salutiamo Ciao Ciao E poi vado a farlo All'Apollo A Milano Il 25 A Milano chissà Eh Milano Ti spaventa Milano È piena di calabresi poi Ah perfetto Allora va bene Allora va bene È il pubblico del Pigneto praticamente Per quello dico perfetto Tutti fuori sede Eh tu abita il Pigneto appunto Però non sei di Roma No io sono Vuoi fare coming out Allora io sono Ciociara E vengo da Arpino Provincia di Frosinone E niente Là si mangia bene È la città di Marco Tullio Cicerone Ma anche di Mastroianni Attore Mastroianni artista È la città vicina di Vittorio De Sica Che non dice mai Non ha detto mai Che lui veniva da Sora Perché si vergognava Noi non ci vergogniamo A dire che Che siamo di Arpino Capito Dovresti forse No 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 Non ci vergogniamo proprio Comunque Poi c'è l'Arca Sesta Acuto C'è tutta roba bella Arpino E niente Volevate sapere Ma la prologo di Arpino Ti dà qualcosa per No Comunque infatti C'è Arpino Dammi qualcosa per Ah devo Ah io sto guardando Tutto il tempo E vabbè È una cosa così Intima diciamo Guardavo per terra Va bene No la prologo Allora posso dire una cosa L'importante è che L'abbia fatto tu qua E non in scena Guardare per terra Perché c'è un sacco di comici Che guardano in basso Guardano per terra Ti è mai capitato Di guardare qualche comico Che guarda in basso Perché pensa Non ti avrebbe voglia di accoltellarlo Eh ogni tanto sì Guardami sono qui Sono qui Guardami sono pubblico Ti prego Guardami È vero hai ragione Emanuele Stiamo parlando appunto Del fatto che sei Pigneto Prima ci hai raccontato Anche a Metro C La domanda Che ti volevo fare Com'è il tuo rapporto Con la droga Allora Il mio rapporto Con la droga È iniziato molto presto Diciamo Perché appunto Avevo Si possono raccontare Ma comunque Vieni da Arpino Giusto? Allora Ad Arpino non c'era niente da fare Presumo No appunto Non c'era niente da fare Quindi che è successo Che un mio amico Diciamo stretto Molto stretto Aveva Piantato una serie di piante Ecco Di piante felici E quindi abbiamo detto Facciamo un piccolo Cioè iniziamo a vendere Queste piante felici In giro E era il mio primo anno a Roma Quindi avevo tutto un ripostiglio Dove avevo messo Andiamo di 15 anni fa Esatto Tutto in archiviazione Esatto È andato ormai Arrivederci E quindi Mi prendo tipo Riempio sto barattolo Con tutta questa roba fresca Diciamo Che era un format di tinti Ravenna e Rapone Esatto Tutta roba fresca Da lì poi l'ho raccontato Va bene E niente L'ho messo in un barattolo Neanche l'ho pesata Tutta quella erba E insomma L'ho portato L'ho detto Vabbè Vabbè Erba Erba Comunque un termine generico Sì C'è le erbette Quelle insomma Generico No poi ci riferiamo a erba In realtà La città del successo Alla stagione Stasi di erba Dove è successo Lei ha messo in un barattolo Olindo e rosa Olindo e rosa Le ho messi il barattolo E praticamente niente Metto nel barattolo Tutte queste cose Questi prodotti Mia madre Mi accompagna a Roma In macchina Inizia a odorare Inizia a odorare E sente Inizia a fare Giustamente Perché era molto fresca Questa E mi fa Ma che cazzo ti è Che ti è Mi ha fatto male Niente Che c'ho Niente Niente Non c'ho niente E a un certo punto Mi apre lo zaino Mi prende il barattolo E me lo lancia Dal finestrino Quindi ho perso lì Una quantità Di soldi Possibili Enorme E là poi ho smesso Poi ho smesso Per riprendere dopo Però queste cose Non mi raccomando Non di fare No Non hai mai ricominciato Con i barattoli No Assolutamente Quei barattoli ho chiuso Non ho chiuso definitivamente Basta barattoli Però Chissà Comunque secondo me Quel barattolo Io sono certa Che sta ancora lì Perché l'era lanciato Verso un boschetto Capito Cioè Dopo c'era il boschetto Quindi secondo me Sta lì Ah quindi può essere Pure che non si è rotto A distanza di 15 anni Io ci devo andare A vedere se lo trovo Se lo trovo Facciamo un seratone Sono mangiato dei cani Ci devi chiamare subito Ok Facciamo una diretta Subito Immediatamente Facciamo una maratona Facciamo una maratona Facciamo una settimana Dopo 15 anni Scusate No che sarà diventata Radioattima Nel frattempo L'erba sociale Ma a proposito Tossicodipendenze Dato che anche appunto Fai anche questo tipo di video Dove parli di relazioni tossiche O qualcosa del genere Se vuoi raccontare Quali sono state Le tue relazioni tossiche Non necessariamente Te e relazioni amorose Ma relazioni tossiche Peggiori della tua vita Che vuoi raccontare Ovviamente Puoi anche Scegli di non raccontarlo Oddio Quando mi frequentavo Con uno Che era Completamente Pazzo Narcisista Che mi diceva Tutte cose Terribili Tipo mi diceva Tu Io non capisco perché Tu vai su un palco E poi la gente Ti applaude La gente ti dovrebbe urlare Sei una merda Vergogna Ma tipo mi diceva cose così È la mia ex È chiara È chiara Perfetto Dai Questo qua mi diceva così E poi mi faceva ghosting Vabbè Non ho avuto particolari momenti Di Cioè Gente che Particolarmente tossica In realtà Però visto che Ne vedo tante Ne sento tante Io mi diverto Cioè comunque a me Mi sa Mi viene voglia proprio Mi eccitano le persone tossiche Perché mi divertono Mi fanno avere un sacco di idee Cioè le persone tossiche Sono piene di spunti creativi Capito Quindi Io ne ho vissute poi Alla fine poche Non tante in particolare Devo dire Dico Con mia mamma Con mia madre È una relazione tossica Lei praticamente Lei è molto È pazza Mi ha fatto fare la comunione All'URD Raga Cioè voglio dire Cioè Allora Parliamo di 8 anni 8 anni Mi ha portato all'URD 8 anni Così bam bam Mi ha portato con un gruppo di preti Vedete che i preti Ritornano sempre in questa storia È un gruppo di preti È un gruppo di parenti Siamo andati in aereo Siamo arrivati lì C'ero io Davanti a Non so Dumila persone Che facevo la comunione L'unica persona Poi dietro C'erano solo persone Sulle barelle Sulle carrozzine Cioè E poi c'è stavo io Così Con le orecchie a sventola Che E mia madre era contentissima Diceva Ha visto Dove sono portata a mamma Ha visto Dove sono portata Il massimo Il narcisismo Mamma mia Cioè Veramente E niente Devo guardar lì Mi spiace Io mi sono persa Questa è una relazione tossica Questa è la tua più grande La capisco Ce l'abbiamo un po' tutti Devo dire In questo ventunesimo secolo La mamma è sempre la mamma Certo Ma è un portangoli Esatto Posso fare la domanda Sugli inseparabili La voglio fare io Però Dai Falla tu La faccio io Perché l'ho pensata io Questa però Allora Ci tengo a precisare Che è una domanda Ideata da Vincenzo Stavamo fumando Al parchetto Stavamo fumando Ovviamente Sigarette Signore Magiche Signore Guardie Signore tenente Abbiamo tirato fuori Quest'idea La leggo Perché è piena Di periodi ipotetici Questa domanda È lunghissima Mi piace Devi anche stare concentrata Perché secondo me È un po' labirintica Se tu avessi Una coppia di Pappagallini inseparabili E un ladro Entrasse armato In casa tua Costringendoti Ad uccidere E mangiare Uno di quei due Pappagallini Madonna Quale sceglieresti Il maschietto O la femminuccia La femminuccia Non lo so perché Non lo so Perché Non lo so Ma poi lei Hai risposto subito Hai risposto subito Non lo so perché Non lo so Comunque in entrambi i casi Quando uccidi uccidi Allora stai rovinando Una famiglia Eh lo so Sì Ma che cosa brutta Madonna Cioè quindi la femminuccia Sì Non lo so perché La femminuccia Ho detto così subito Perché mi sono Mi sono un po' Ho empatizzato Con la femminuccia Capito Perché non vuole fare Soffrire solitudine Ok non mandate mai Emanuele a cappello A fare In Africa Non so Ma Roma è piena di Pappagallecco Perché ho fatto Sta domanda Ce ne erano tipo 60 No in realtà c'è tutto Un motivo psicologico Dietro Ma non stiamo qui a spiegare Non me lo spiegate No No dietro c'è Freud Ovviamente Questa è una domanda Assurda Solo noi la facciamo Vabbè ci sta Comunque mi piace La devo capire meglio Poi me la spiegate un po' di più No ma non ha nessun senso Probabilmente Vedete bene che cosa vuol dire Questa cosa Io devo approfondirla No avevo scoperto Che tu in fondo Ami il patriarcato Avendo detto la femminuccia In fondo si può dire di sì Sì sotto sotto Io sono una grande fan Da mangiare a tutti il patriarcato Ma certo Ma meno male Guarda Veramente Grazie patriarcato E grazie di seguirmi Patriarcato Perché comunque Sei un mio grande fan Non smettere mai di credere in me Patriarcato E dagli tutta Così volevo fare Stappello al patriarcato Tu considerami sempre patriarcato Cioè Io sto qua No scherzo Ma ammazzano No ammazzano Dicono cose del genere Passa per il locale Quello femminista Transfeminista La uccidono Mi lanciano i sassi No 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 Invece io sono una femminista Una femminista Una femminista Una femminista Di tutti i giorni Una femminista di tutti i giorni Una femminista della porta accanto Una femminista Molto basic Working class Normale Tutto a posto Vogliamoci bene Viva la parità Viva la lotta E beh ragà Basta Stavate Faccio più Sembra la chiara Valerio Ti volevo tranquillizzare Perché comunque Anche se sei in una stanza Circontata Da quattro uomini Ma voi siete carinissimi E beh sì E poi tre di noi Addirittura sono campani Sappiamo che i campani Sono agender A proposito Sono come gli angeli Hai ragione A proposito Emanuela Hai problemi con gli uomini grassi? Con gli uomini grassi? Assolutamente no Non esiste Perché? Ma così Perché questa domanda? No Anzi io adoro gli uomini grassi No ci piace perché C'è sempre uno stigma Dei confronti degli uomini grassi Non ci fanno fare le fotomodelle È vero Non ci fanno fare le Non ci fanno fare film Non ci fanno fare film Ma infatti io sto combattendo Io sto combattendo Sto combattendo Io sto combattendo una battaglia Anche per fare Per aprire questa cosa Agli uomini grassi Cioè di farli fare Più ruoli Di farli fare i modelli Di farli fare queste cose qua Infatti aprirò una pagina mia Proprio Instagram Apposta Per questo motivo qui Quindi No 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 Facciamo fare delle cose Agli uomini grassi Prossimo step attivista Regà Cioè qua Qua prossimo step mio Attivista Quindi Quindi sì A proposito di attivismo Un sacco di tuoi Diciamo colleghe Tu perché sei border Tra un'attrice e un'influencer Ok Beh ci sono tanti tuoi colleghi Che a un certo punto Hanno svaccato Nell'Holly Fans Ah ok Certo Tu Perché svaccato Beh qualcuno ha fatto bene Perché Ma qualcuno ha po' svaccato Perché non aveva talento Andare proprio A buttarsi su Holy Fans Vabbè Qualcuno sì Qualcuna No qualcuna sì Però poi se lo fai bene Comunque Vedi che c'hai il talento Ma appunto No infatti ti dico Tu I parenti lo vengono a sapere Sai quelle cose Io Avevo in mente questa cosa Di Holy Fans Sono super ignorante E tipo tu E bene o male Tutti lo sanno Che tu sei Holy Fans O no Non funziona così Che ti arrivano anche Cioè ti arrivano le mail Ti chiedono il permesso Cioè a mio zio Franco Gli arriva la mail Posso sapere se hai Holy Fans Cioè Emanuela Che ha messo Una foto di lei Che sta raccogliendo Una savonetta Capito Cioè queste cose qua Zio Franco sarebbe inquietante In effetti Cioè Non ce la fa Da quel punto di vista Un po' mi inquieta Poi io ho sempre Il problema di mia madre Cioè che comunque Voi dite una cosa Un po' banale Però no Cioè lei comunque Se scopre una cosa del genere Lei si sente male Cioè poverina È anziana Non le posso fare queste cose io Cioè ho due genitori Troppo anziani Quindi non le faccio Poi quando muoiono loro Mi butto subito Sui litani L'idea era quella Capito Aspetto questa cosa Quanto Manca poco Sono anziani Sono vecchi comunque Quindi è una certa Arriverà il momento Questa è complicità feroce Comunque Questa è cattiva Questa Poi dice No non faccio la stand up No no Invece la fai E infatti come Come lo chiameresti Il tuo genere Tragicomedy Tragicomico Tipo Monologhi tragicomici Monologhi È troppo lungo Troppo lungo Sì Vedi stand up comedy Si capisce subito Secondo me tragicomedy Era Tragicomedy Tragicomedy Un po' americano È caruccio Dramedi Dramedi È dramedi Capito Perché comunque c'è dramma E comedy Perché tragicomico C'è tragicomedy Dramedi mi sembra Tipo la biografia De Calenda Capito Oddio In effetti C'è qualcosa C'è ragione Però è dramedi Però purtroppo Da un punto di vista Secondo me Renzi capito Come dramedi Non mi tocca a Renzi Poi Renzi Ce l'ho sparato La cruce rossa Comunque Lascialo perdere Allora Abbiamo altre domande Orrende Vediamo un po' Allora Emanuella Dimmi tutto Da artista Se un giorno Arrivasse questo bivio Nella tua vita E dovessi scegliere Se come artista Continuare a criticare La società E schierarti quindi Dalla parte degli oppressi Degli ultimi Degli disperati O Avessi la possibilità Invece di diventare Ricca e famosa Però schierandoti Dalla parte dei potenti Quindi favino No 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 Su questo sono certa Poi se fra qualche anno Succede qualcosa Venitemi a prendere Sotto casa Però si Dalla parte degli oppressi A parte gli scherzi Dalla parte degli oppressi Dai Sempre Sempre dalla parte Di quelli Dei poveri disgraziati Come me Cacchio Se poi fra qualche anno Succede che faccio il contrario Mi venite a prendere Sotto casa Mi potete picchiare Puoi girarti Noi stavamo Stavamo Concordando Compagna cappello Ovviamente Stavamo concordando con te Uniamoci Uniamoci Questo glielo diceva Se non mi sbaglio Little Tony Little Tony No Pupo lo diceva Pupo lo diceva Proletari di tutto il mondo Il giornato al cioccolato Ma sai una cosa Io ho notato In Emanuele Un po' un calcuttismo C'è avuto un periodo Molto calcutta Tu prima raccontavi Dicevi che c'è avuto Quel periodo in cui Pupo hai smesso di fare Qualunque cosa Non c'avevi più voglia Sì Quanti anni è durato? Due anni Due tre anni Come ne sei uscita? Perché c'è un sacco di gente Che poi vive quel periodo Guarda Ne sono uscita Dicendo Con una depressione Con un momento di depressione Che è durato pure Insomma un po' lungo Poi ho avuto la botta finale Che è durata Tipo un mese e mezzo Di dramma totale E là ho detto Basta Cioè Anacerta Stai male Ma era prima o dopo il covid? Dopo il covid Verso la fine del covid Perché poi Tutti La maggior parte è stata male Durante il covid Io verso la fine Ho detto Basta Mi fate schifo tutti Vi odio tutti Vaffanculo La mia vita non è questa Sto male Vabbè Accetto che sto male È così Guardiamo in faccia Il malessere Stiamo Cioè Comunque siamo in empatia Col malessere Siamo comunque In ascolto Con questo malessere Capito? Fallo entrare Vieni Vieni Per un artista È importante Avere a che fare Con il proprio malessere Impararci a dialogare Beh sì Tu sei una di quelle Che prende più ispirazione Dai periodi bui O riesci a Comporre Fare qualcosa Anche quando sei molto felice Stai bene Allora Dai periodi bui Prendo tantissime Tantissime cose Poi quando sto bene Riesco a Comporre meglio Cioè nel senso che La faccio la raccolta La semina la faccio Nei momenti bui La raccolta la faccio Nei momenti buoni Così poi mi aggiusto tutto E costruisco tutto Metti quella patina Di raziocilia Esatto Esatto Sì sì Questo sì Assolutamente No no È fondamentale Cioè stare male Sai vabbè Io per esempio Riesco a scrivere Riesco a essere più operativo Più artistico Quando sto bene Sì Io devo stare malissimo È un guai Se sto bene Vado a farmi i cazzi miei È un guai È un guai Infatti Cioè io devo stare sempre male Ogni tanto Cerco di stare un po' peggio Così poi Divento più creativa Ti fai dei danni Sì sì Si autoflagella Maggio Ci vediamo d'accordo Allora Care Emanuela Ti vorremmo domandare Una domanda fondamentale Che in questi giorni Emanuela Cappello Dove si mette Nel conflitto Israelo-Palestinese Ma Palestina Libera Cazzo Cioè Non c'è proprio Da dire altro Palestina libera E basta E basta Ma non rompessero i coglioni Ma già il fatto che A parte che mi fa schifo Il modo in cui hanno gestito In Italia I giornalisti Tutta la comunicazione Fa vomitare Questa cosa Sono indignata Cioè veramente Vergognoso Ecco non ti preoccupa Essendo che tu Sei comunque Adesso una figura pubblica Ti appresti A continuare a lavorare A diventare sempre più importante Non ti disturba Non ti fa paura Un pochino A doverti poi Introdurre Perché quando diventi famoso Poi la soglia è quella Magari ti chiamano La Repubblica Che tipo È palesemente invischiata In robe Contro i palestinesi Tu come fai? Che fai? Non ci vai a fare intervista? No Quello è un po' Un problema Nel senso Poi la dipende Da che situazione Cioè che cosa succede Che proposta Mi viene fatta Con chi vado Con chi interloquisco io Quello sì Cioè ovviamente Poi ci rifletto Prima di fare una cosa Cioè non vado così A spadatrat Cioè non è che mi butto Tiè bam Dove mi chiamano Chiamano Per forza Anche perché Stavo dicendo Che sono un pagliaccio Ma i pagliacci Sono persone alte Meravigliose Sono meravigliose Sì sono meravigliose Volevo dire Che faccio L'intrattenitrice Così Della domenica Cioè c'è un progetto Dietro Questa cosa mia No E ogni volta Comunque Ogni richiesta Che mi fanno Pure il fatto di venire qua Cioè ho detto Aspetta Chi sono queste persone Ho visto Siete persone terribili Allora perfetto Ci vengo No scherzo Ci vengo Perché c'è una cosa dietro C'è gente che Cioè Gente che Ci somigliamo Abbiamo le idee Sì Abbiamo le stesse idee Le stesse idee E tutto quanto Quindi ogni volta Io Cioè Mi interrogo E questo ti fa Ti fa onore Perché non tutti Si interrogano No Fai venditori ambulanti Cioè che è sta roba No Su questo Sono molto Diciamo Sono molto molto attenta Moltissimo E anche perché Non ci dormirei la notte Cioè Mi fa stare male Devo essere E poi chiedo pareri Continuamente Cioè A gente Compagna Cioè io sto sempre A chiedere pareri Perché non sbaglia mai Perché poi a volte Uno si confonde Dice Vabbè sì Perché uno dice sì Alle cose Invece Vai a approfondire sempre Quindi sì Sì Mo ho fatto un casino Ho parlato troppo No 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 perché poi ci penso No Cioè uno poi Le cose le pensa Altavoce Quindi ci ragiona Una domanda figa Questa Grazie che me l'avete fatta È bella Prego prego No ma è È interessante perché Io e Vincenzo Oltre al Kebab Podcast Noi siamo speaker radiofonici E quindi Intervistando ogni settimana Persone Non siamo abituati A risposte così Interessanti e belle Invece Sono spiazzato È vero Ma perché ripeto Ma è la posizione È la posizione Guarda che li fa parlare Tutti ce la crediteranno Ma vedrai che a lungo andà Faranno Ma vedi questi geni Te lo assicuro Di fare i bocchini Eh beh Certo che me li faccio Sono grande No perché Nessuno mi dà mai un abbraccio E quindi Me le devo dare da solo Hai capito? Ti sconsiglio fortemente Di abbracciare Vincenzo Ma no Non mi sa ragione Perché comunque sarei Puzzare di tristezza No però mi piace La puzza di tristezza Un'altra domanda Tanta naftalina Un'altra domanda Che sonda Le profondità Dell'essere umano Ok Ma no Avevo scritto così tanto Tu non puoi vedere Ma io ho fatto Dei gesti Molto sensuali Oh Vole rivedere in vita Poi esatto Emanuella Cappello Mi piace dire il tuo nome Non so perché Ok Ma suona benissimo Sì infatti Un nome fantastico Grazie Perché non indossi Un cappello Perché non hai un cappello Infatti Dovresti avere un cappello Ah infatti sai che Ho pensato su Italenta Dove levare la foto Tu e metterci la foto Di un cappello E basta Un centimetro Se gli metto il cappello Io sembro Martufello E con tutto il rispetto Io amo Martufello Ciao Martufello Vieni qua Vieni a Kebab Podcast Sì vieni Vieni e porta anche D'interno Il miglior Martufello L'ha fatta Alba Rockvacher Se non sbaglio Quest'anno Alba Rockvacher Ha fatto sì Un film su Martufello Un più picco su Martufello Non l'ho visto L'ultima volta Ho visto Martufello E' stata una festa Di quartiere del Tufello Infatti Martufello Martufello è il Tufello Cosa pazzesca Cosa incredibile Pazzesca Poi ovviamente Finito tutto a Coca e bocchini Comunque Cioè Allora Emanuele Qual è la tua paura Più grande? La mia paura Più grande È quella di Diventare Poco creativa E rincoglionirmi Diventa scema Proprio scema Tipo Diventare superficiale Rincretinirmi Diventare una di quelle Appunto Di cui parlavo prima Di vendersi A tutti i costi Di fare cose Senza contenuti Cose vuote Fare progetti brutti Però solo per soldi Cose così Questa c'è Cioè se divento così No M'ammazzo Basta Emanuele Cappello A Sanremo Dovete sparagli E le fate un favore Le fate un favore Le fate un favore Ve lo chiedo proprio così Marco Cappato Se ne ascolto Guarda Veramente Poi bisogna stare attenti Non ti fa problemi Anzi Se vuoi venire A trovarci qui Ti prego Marco Vieni qua È una piccola svizzera Aspetta soltanto te No Saludiamo Marco Cappato Ti vogliamo bene Ma sai che è il nuovo simbolo Adesso che stanno mettendo Dei radicali C'è un panda Ah c'è un panda C'è un panda Sì sì Ma che è il simbolo WWF Eh sì sì Lo mettono ai radicali Sì 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 Perché pure il panda Vuole morire I radicali Sono i più adatti Secondo me Wow bellissimo Magari Emanuele È della d'Italia Può da dei radicali E poi stai insultando Il mito Ma come Il povero panda Ma guarda che il partito Più bello d'Italia C'è il capo È Voldemort No dai Questa di Voldemort Non la dovevi dire E una volta c'era il professor Python Esatto Però è vero Con i pezzi di fumo O Python Chi sa Chi vorrebbe sapere Vogliamo fare La domanda sul kebab La domanda La classica domanda kebab È la domanda Diciamo Parodica del podcast Perché noi siamo Kashmir podcast Sì Un podcast morbidissimo Non limonarti Non ci do limonarti Mi scordo sempre E praticamente Tu devi sapere Che in realtà Noi siamo gli astucci Di Ravenna e Ferrari Ah Perché siamo così grossi Se tu ci apri Dentro ci sono Ravenna e Ferrari Ah ecco Ravenna e Ferrari Ok Sì sì No perciò che siamo simpatici Perfetto Per questo Però sarei mostrati Una noia incredibile No è incredibile Assurda Dunque La domanda è qui È la seguente Qual è la cosa Più disgustosa O malzana Che hai mangiato Dopo uno spettacolo O in qualche esperienza Particolare In generale E vogliamo sapere anche Se è capace il dopo Cos'è successo E com'è reagito Com'è andata Allora La cosa più disgustosa Che ho mangiato Dopo uno spettacolo O malzana Sì Sei la chimica Che ti fa venire Adrenalina Dopo uno spettacolo Ah no perché tu sei magro Non sai niente Mi sono mangiata La cosa più schifosa Che ho mangiato È stata una pizza O un distributore Di pizza Che faceva la pizza Che faceva Cioè era Tipo tu mettevi Cinque euro Ti faceva la margherita È una delle cose Più schifose Che ho mangiato Nella mia vita Cioè Un'esperienza Irripetibile Veramente Ma qui a Roma È successo Purtroppo sì Sì l'hanno inventata un po' Ho visto anche dei video Su Instagram Dove dicevano Oh è buonissimo Ma è una merda Ma certo che è una merda Ma fa schifo È terrificante Poi dopo sei stata male No non sono stata male Però Insomma Ero triste Molto triste Ma quant'era il tragetto Tra quella macchinetta E casa? Eh parecce Cioè in tipo Mezz'ora Oggi Cioè potevo stare Capito Potevo andare a casa Farmi la pasta asciutta Comunque Oddio pasta asciutta È una cosa che non sentivo Da contadere Io non faccio la pasta asciutta È bellissimo Non so perché l'ho ricacciato Però è bello È molto più bello Che dire Famosi una pasta Sì capito Pasta asciutta Quando ero bambino C'era questa signora Si chiamava Edola Che mi Mi tirava le guanci Diceva Eh ti piace la pasta asciutta Ma tutti i giorni Me lo diceva Brutta vacca Schifo Saluto Tanto non ci sei più Ti voglio bene E quindi non puoi più Fare body shaming Comunque io direi Che è stata una Fantastica esperienza Se siete stati bene Un'ultima domanda Un'ultima domanda Era molto stupida Era molto credina Era quella sulla musica italiana Ma era proprio stupida Musica italiana L'ascolti? Sì sì l'ascolto Ti è piaciuto l'ultimo album Di Beyoncé? No Non l'ascoltato No 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 Hai fatto bene Hai fatto bene No L'ultima domanda Secondo te Rocco Siffredi Può essere un orgoglio italiano Made in Italy Oppure No Sì Oh ammazza È una persona Molto affascinante È una persona comunque Ha una bella voce poi Eh sì È la voce Che attrae Sì sì Secondo me lui C'è la sua particolarità È proprio la voce Sono i gorgheggi La voce è la prima cosa Che guardi In Rocco Cioè ma infatti Sono persone che I videoporno Se li guardavano Addirittura Occhi chiusi Sì sì Sono per sentire I suoi mucoli Sono i porni per ciechi No? Sì 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 Ma infatti Lui neanche lo doppiavano Non lo doppiavano neanche No no Perché era bravissimo C'è una voce Pazzesca Rocco Siffredi In Marifano Vogliamo fare un appello Per farvi vedere Rocco Siffredi? Con tutta la famiglia Magari a questo punto Perché Catteran Ha avuto tutta la famiglia E hanno parlato Tutto il tempo Del pisello Di Rocco Siffredi Cioè c'era il figlio Che faceva Cioè il pibino di papà È gigantesco E la moglie Eh sì Mi ha fatto male Per tanti anni Ma che cazzo Di intervista Catteran Intervista Il pene Di Rocco Siffredi Mamma mia Tu te la faresti Fare un'intervista A Catteran Sì dai A Catteran Sì dai Boh Tanto che ti chiede Due tre cose Tanto sono dieci minuti No te fa Senti come è andato Il tuo ultimo film Enea Ti chiede magari Esatto Bello sarebbe No e Pietro Castelletto L'hanno invitato ovunque Solo noi Non ce l'abbiamo avuto No cercando di vederlo Ieri streaming Non ci sono riusciti Ancora non è Sì ovviamente Lo scaricheremo In modo illegale Anzi Vogliamo fare la prima Usate le VPN Per così magari Ci notano Sì esatto Usate le VPN Così potete No non dovete Scaricare illegalmente I film Con le pubbliche Non si fa Scaricare Anzi Una domanda Hai Future serate Già hai detto Prima a Milano Progetti per il futuro Progetti per il futuro Cose che stai Progetti per il futuro Sì ce li ho Però non li Non li so ancora bene Mi hanno detto Che forse farò Altri due live Da qualche parte Però non lo so Non mi devo organizzare Ancora Poi torno Comunque io lavoro Alla A Napoli A Napoli Fa spettacoli lì Sì infatti Quindi non so Ancora le date Quali saranno Però Qualcosa bolle In pentola Qualcosa bolle Ci saranno delle news Ci saranno delle news Ti dobbiamo seguire Sui social Comunque è stata meravigliosa Che non ha mai un secondo Preso la sua mano E mosso i capelli Non l'ha mai fatto Però l'ha fatto Non l'ha mai fatto Ma posso dire Guarda che Buonissima attrice Da questo punto di vista Perché è tosto Certo Bassina 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 Però Una splendida attrice Una splendida attrice Veramente splendida Ti ringraziamo Per essere venuta Poi comunque Ha un orario terribile Del lunedì A luna Io da questo là Dormo da Almeno sei ore Ci sta Ci sta Se sei stata bene Benissimo No benissimo E spero che voi Siete stati bene Dai Sono molto contenta Però voi come siete stati Sicuri che siete stati bene Non mi dite Siamo stati bene Siamo stati fantasticamente Siamo in un momento In cui ho abbassato la voce A un certo punto Così un calo Però poi si è ripresa Si è ripresa Si è ripresa È stato un calo di zuccheri Ma si può tagliare qualche parte In cui dico tipo No no assolutamente No no Metteremo un bip Perché sembra così La parolaccia Potremmo farlo Potremmo farlo Sotto proprio così Anzi se c'è il codice Quindi della banca Mi lascio pure il codice fiscale Non lo so Quello non ci favo niente Tutto l'ho detto Tutta la mia vita Vi ho detto io Adesso sappiamo tutto di te Emanuela Ormai mi sono scoperta E allora Facciamo un Un grande applauso Un applauso Un applauso Quello siamo virtuale Per Emanuela Cappello Grazie Io sono Vincenzo Minichella Io sono Pietro Monfreda Questo è il Kebab Podcast E ci vediamo alla quarta Quarta puntata Quarta puntata Ciao ragazzi Bacioni Bacioni